Oltre 100 adesioni in poco più di due settimane. Questi numeri raccolti dal primo corso in Italia sulla transizione ecologica dedicato alla pubblica amministrazione, realizzato da GTA Italia e Save the Planet Onlus in collaborazione con ANCI e Ministeri delle Infrastrutture e della Transizione Ecologica. Noi cerchiamo di promuovere delle iniziative positive per sensibilizzare non solo i cittadini e l'opinione pubblica, però anche le istituzioni e arrivare a un modello di collaborazione responsabile fra di noi che ci permetta di fare dei passi in avanti sempre più concreti. Il progetto, gratuito e disponibile online da inizio marzo per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ha l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari a rendere le città sostenibili e migliorare la consapevolezza dei cittadini sui temi ambientali. Noi oggi vediamo in una fase dove c'è un impegno straordinario di tutte le pubbliche amministrazioni, non solo dei comuni, proprio i vincoli che negli anni passati sono stati posti alla formazione pubblica, li vediamo appunto non soltanto in una carenza di personale ma anche in personale non adeguatamente formato anche su questi temi. Il corso, strutturato su sei livelli, tratta argomento di pubblico interesse legati ai temi della sostenibilità. Ci rendiamo conto che è attraverso la consapevolezza e attraverso l'elevazione culturale anche dei nostri uffici pubblici che può passare la giusta motivazione e la giusta modalità con cui prendere le decisioni anche nelle nostre città. Non è solo una questione di regole ma è anche una questione di consapevolezza e di passione.